Ragazzi qui Dido, oggi facciamo un'altra partita, Draw My Thing, quello che è, e qui con me c'è la mitica Run in 89 Ciao a tutti Ok, ti alzo un po' il volume che non vorrei che... ok, prova a parlare Pronto, prova a salsa Madonna, ok, così è troppo alto Ok, no, non ho passato, no Ok È perché mi sa che se non scrivi niente... oddio, tocca a me, oddio, oddio, oddio Esatto Cioè, ho scelto la più difficile di tutte Vai, 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 che sei capace Speriamo di riuscirci Ok, intanto ci provo No, ho scritto P, P e Pene, solo che mi ho censurato Ah, questa è tipo Loka, è Lanata Penguin, ecco, Goose è bella bastardi, ma non ho fregata No Ah, Duck Ti guarda che io sto scrivendo quello che scrivono Loka Goose ha scritto male, uno ha scritto Non è Lanata No, era il cigno Il cigno, vabbè, due modi diversi per dire la stessa cosa, la stessa cosa Dai, non cambia niente Uguale proprio Ora tocca a I'm amazing, è anche modesto sto qua Vediamo Io tanto ci riprovo con penis, no niente, ok Cioè, è censurata poi Fantastico, ho beccato Ho beccato no Yacht Sicuramente questo qua è uno di qua Grazie amico Grazie amico Ho infinato Grazie Che idiota Guarda qua, vincono tutti a quanto pare Oh Eppure era così difficile Esatto Stiamo sognando di livelli in modo incredibile Questo qua è uno senza account Vediamo se è qui per cazzeggiare e basta Questa è penis Oh mio Dio, davvero Ah no, ok Cos'è? Spada, 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 spada Poi non andando quella cosa sopra Fatta cosa che non voglio dire Perché stessa sarebbe troppo volgare Comunque io sono Ridendo e scherzando Sono terzo Cos'è questo? Dio, cos'è? Scarabocchio Abominio No, ho scritto anche male Abomonio Abomionio Vabbè, va a far culo Tanto ho scritto male Oddio, ma è geniale E questo cancella colorando di bianco Non ci avevo mai pensato Shit Cosa sta scrivendo? Su Io scrivo quello che ha scritto lui Anch'io, dai No, è sbagliato Le sta provando tutte Snow, la neve, a caso Cosa? La neve? Era neve Però c'è il check E sono passato in testa Insieme a gli altri Oddio, tocca a me Guarda qua che roba Mio Dio, ho scelto la più difficile Perché è stupenda Guarda qua, eh Allora abbiamo Questo No Poi Guarda qua Mio Dio Mio Dio Sono un genio Ho già in mente tutta la cosa Guarda qua Che cos'è? Questo qua deve essere verde A tutti i costi Anzi Ah, questo è un vecchio, no? Che porta a spasso il cane Sappilo Cos'è un incrocio? Questo è il cane Questo qua In forma Sì? E però Qua ci sono Un sacco di macchine Oh mio Dio Quindi? Traffic Oh mio Dio Oh mio Dio Siamo dei geni Sto facendo degli amevi Che camminano sulla Ma sono Dai, sono degli amevi Ma sono pesci? Cos'è? Un applauso per avere Reseccato traffic Ah, tocca te adesso Adesso li do io Questa è facile Questa è facile Certo, io scelto quella Quella più difficile Proprio per mia spontanea volontà Cos'è? Monster Cactus 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 Tutti cactus Sono fatti così Dai che siamo secco No, scusa Tu quanti punti Ecco Sì No, sei prima Oh mio Dio Sono prima io Non capisco Veramente Ogni gioco che faccio Quando non è bravo Guarda questo Questo è il pokemon Casper Casper Io ci provo Casper volante Che scorreggia però Che cosa fa? Chi ha detto ragno Ha una mente malata Cos'è? In quest'arte fra l'altro Pigeon Piccione Pigeon No Però ci vuol sperare Guarda Quello a destra è triste No Con la faccia triste Questo conigli Sì Conigli Conigli Dove vive Quello Ma è conigli veramente? Cos'è? Un 6? Un 2? Rabbit Rabbit Oddio sono conigli Veramente Non è possibile Questo non sa Quella sia un conigli Secondo me è un italiano Un Che non sa Quella sia conigli Ha fatto il primo pokemon Che vengono venute in mente Oh mio dio Cos'è? Basta Queste cose Scene Vulcano 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 Che castello Oh Il primo signore Firewall Che coglione Ho scritto Vulcano M'ha detto che è giusto Vulcano L'abbiamo azicato Se lo io e te Perché eravamo gli unici Italiani a sapere come è che si Che si scrive No mi ha battuto Sox Skulux Skulux Oddio Io pari a te fra l'altro Vabbè Ok ce ne facciamo ancora una dai Ok Oddio Quell'uomo della sagoma è incredibile Guardalo Ma che cosa Edge No Mi ha fatto il log out No Come log out? No Non mi Non sono più con voi E pure a me ha fatto uscire Perché eri con me Dai No Per favore Vabbè Guarda tu Ah aspetta ok aspetta Ci sono ci sono ci sono Cerca di fare join Come abbiamo Come hai fatto la scorsa volta Lì in basso a destra Ok join Ah ecco Ok meno male Ce l'abbiamo fatta Ok Tipo il panico Generale Si comunque I giochi online Abbiamo capito Che non siamo molto portati E te per farli insieme No guarda questo Che che No se n'è andato Chi chi? Dark angel Con tutta la foto da No Si l'ho vista L'ho vista si Sick nature Sick nature Dai stavo qua Bisogna vincere Eh si eh Per forza Dai Sick nature Sick nature Cioè Naciós malati Alla fine Si Il nome è bellissimo Che cos'è? Home Casa No Matita Milk Milk E comunque io Segnalo come Ok Comunque l'ho anche Segnalato come Cheater Perché così è brutto Dai Dai che tocca a me Ok 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 Ci sono Scegli la più difficile Ovviamente Ovviamente Ok No dai Ho scelto quella Bastanza facile Allora Qua Oddio Che Ok Ti metto una idea Incredibile Ok Qua abbiamo Un omino no? Con un braccio lunghissimo Ok se macchia Abbia tre gambe Magna solo una In verità Vabbè ok Contenta Qua In mano Ha Un blocco La gente che scrive La gente che scrive Spermane E qua Che cos'è? Aspetta aspetta Ora si capirà tutto No Cos'è? Ora si capirà tutto Cos'è? E qua sono E qua sono Gli occhi Tipo Oh mio dio Red Pit E Ah Ah Ok Ho capito Ho capito Sì Un secondo Dall'apirma Guarda tu che disegno Epico Ho detto che sono un genio La gente che scrive Sperma Io non capisco Ottimo perché il timer È una mela Adesso Ok Bols 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 No è peggio È cacca Cos'è? Beh perché? Cacca Eh Pup Scusami un attimo Pup Beh limoni Ma che stai sto scrivendo Ma che stai Perché si vanno al bagno La fessura È la fessura proprio Eh Ma Come veramente Ma per Ma batte Ma no Ma davvero Ma perché? Cos'è? Ah no Qualcosa di incredibile Questa parola Quanto parla Io copro una vocale Adesso Tanto Cos'è quel quadrato? No Ma che cos'è un Picasso? No Qual è un pene Sì Pene È un rebus Cacca Cacca culo Pene lol Non c'entrava niente Stava solo trollando Mi sa Vabbè Alla mia stima Comunque Nessuno di questa ro... Oddio Non so che cosa... Allora Ehm 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 Allora Proviamo Così Io ho spavuto ci wow 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 Tanto è semplice wow wow Non ho idea di come fare sta cosa Oh mio dio è davvero qualcosa di... Impettante Ehm Ehm Come... Come caspita Ehm È lunghissima fra l'altro la parola Due Per Ehm Cosa Cosa Calculator Multiplication Ehm No io ho... Quello c'è arrivato Qualcuno c'è arrivato I nacho o malati c'è arrivato Multiply Oh No però l'ho capito io Quando ho letto è la cosa finale PLY Da Sick Nature Io non mi fido di quell'uomo Comunque è già a dieci minuti Anzi è già a dodici Vorrei caricarlo entro domani Quindi devo stopparlo qua Sennò poi non posso montare Fare il rendering Ehm Quindi ragazzi Stoppo qua il video Ehm Se vi è piaciuto Come al solito Lasciate una Quale quantità Ehm Di mi piace Fuori dal comune Come al solito Ehm Vi lascerò In descrizione E anche in sovrimpressione al video Il link al canale di Rannen In modo tale Che vi possiate iscrivere Aspettate io non voglio più giocare In modo tale che In modo tale che vi possiate iscrivere anche al suo canale Ehm Fatelo in tanti perché Merita davvero Ehm Anche lei carica Uno, due, tre Vi video al giorno Di solito due E' molto Molto simpatica Quindi davvero ragazzi Andatevi Iscrivervi al suo canale Sarà quindi ripeto In descrizione In sovrimpressione Ehm E niente Vi lascio ai suoi saluti E stoppo il video Ciao ragazzi Grazie per aver seguito E grazie anche a Ditto Ok Bella ragazzi Quindi chiudiamo al nostro solito modo Ehm Quindi vi chiedo di lasciare un mi piace Commenti Mi tagliate il falso face E adesso tu Bella ragazzi Ciao Ciao